Proprio questo è il paradosso, il settore dei pubblici esercizi è quello che durante la pandemia ha subito una grande batosta, tutti lo sappiamo, e in questo momento c'è la voglia comunque di ritorno alla normalità, quindi uscire, andare a mangiare una pizza, farsi un aperitivo. Molte aziende nostre soci e confedercenti stanno cercando personale da rimettere al lavoro e paradossalmente, nonostante la perdita dei posti di lavoro dovuta al Covid, faticano in questo momento a trovare risorse formate. Ecco che comunque la formazione in questo senso può dare un grande sbocco occupazionale. Il corso prevede 2100 ore di formazione di cui 1300 di lezione in aula e il laboratorio di cucina, oltre ad 800 ore di stage da svolgere presso un'impresa del settore. Il corso è totalmente gratuito perché è finanziato con le risorse di garanzia giovani della regione toscana e è realizzato in partenariato con Forma Impresa e Consorzio Abaco. Il percorso formativo si svolgerà presso il nostro laboratorio di cucina, le nostre aule e poi con uno stagio in azienda. Possono richiedere di iscriversi tutti i ragazzi che non abbiano ancora compiuto i 18 anni e che in questo momento non sono iscritti a nessun altro corso di studi o altro percorso formativo. Potete contattare l'agenzia di confedercenti per avere tutte le informazioni.